Buongiorno Maria, oggi affrontiamo il discorso delle ragazze di oggi. Che cosa pensi delle ragazze di oggi? Che si fanno solo un cuore, e nessuna cosa è più, non sono buone, non servizio, non ragazzo, non ti cammino, non ti niente, le fanno tutti suoi. Ecco, punto e basta. Quando ero ragazza io sappiamo fare tutto, ora si fanno solo a chi servizio? Non tutti però, eh. Che servizio, Maria? Un cuore. E basta? E basta, sono solo un cuore. E gli uomini di oggi come sono? Gli uomini non ne parliamo proprio, che sono giustati via peggio di femmini. Non tenono che era gioventù, che era giovane, che era qualunque cosa, non di mamma, non di padre, non di sora, sono giustati peggio di femmini per loro. Non giustano proprio. Ma noi prima, prima, a 10-11 anni, capia, io capia tutto, però faccia fin da che non capia niente. Però erano sistemati, per lavorare, per rispetto, tutto. Ma non c'è, non di spettro, non di mamma, non di sora, non di cio, non di frate, non di capra cazzo. Ecco. Punta e macchia. Ma se mi facessero comandare meno poco. Vuoi salire in politica, Maria? Eh, se mi facessero comandare meno. Mi facessero giusto un po' la situazione. Ma si comandano sempre loro, si scatiscia sempre. E che cosa pensi, che dovrebbero comandare i giovani o le persone anziane? Le persone anziane, che sono, che devono sperimentare tutto, lo giovane, che devono solo che è da fuoco. Oh, ecco.